ciao fragoline nuovo video allora prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina per non perdere neanche un solo video in cui io pubblico lasciare un bel mi piace un commentino qua sotto e ovviamente se volete seguirmi su instagram che li metterò tante cose sia foto che video prima di youtube allora come leggete dal titolo praticamente taglio i capelli al mio ragazzo voglio precisare che non sono una parrucchiera non è la prima volta che gli taglio i capelli sarà tre quattro volte che glieli taglio dato che lui si fida molto di me e non vuole andare a spendere soldi dalla parrucchiera giustamente mi ha chiesto di tagliare i capelli allora ho detto perché non provare a fare un video non so non si sa mai se vi interessa specialmente ai maschi vediamo comunque io adesso vi lascio il video a fine video vi farò vedere il risultato ovviamente e voglio dire questo non sono una parrucchiera per cui i capelli glielo fatti come praticamente so fare io come mi ha chiesto anche lui di farli praticamente così non è neanche facile perché usare la macchinetta se devi tagliagliele zero ok ma se non devi tagliagliele zero praticamente è difficile io gli ho fatto questa sfumatura che ci ho provato ma non è che sono esperta per cui non voglio sentire sotto nei commenti che i capelli non si tagliano così bla 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 perché sinceramente io non sono una parrucchiera e ovviamente questo video non è diciamo un video dove insegno io a voi come si tagliano i capelli questo no è solo per giocare insieme e farvi vedere il risultato finale di come ho tagliato i capelli del mio ragazzo solo quello ok detto tutto ci vediamo al prossimo video e buona visione ciao adesso vedo come come fare allora inizio a farli corti con la serie ok talmente non posso fare così devo iniziare con la bubichesima perché se no non mi fa tagliare non mi fa tagliare non è comunque tutto ci vediamo non no Grazie a tutti 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 Grazie a tutti